Allora, 11 dicembre 2015, ore 20 circa, siamo qui al Saint Regis, l'ambasciata del Kenya ha fatto una bella commemorazione, come chiamo, è una manifestazione all'interno della sala con il molto poteretto, l'insegna della multiculturalità, abbiamo mangiato il tipico kenyota, che è molto molto speziato Very good, eh? Yeah, very good Very good